Ciao a tutti ragazzi e bentrovati qui in sala per il Day 1B dell'EPT di campione. Come vedete l'inizio è decisamente più promettente rispetto a quello di ieri con già 200 giocatori seduti ai tavoli. Vi ricordo che le registrazioni tardive sono ancora aperte, quindi ancora la possibilità di iscriversi e di aumentare il field. Come avete visto dalla presentazione dei volti noti sono parecchi i giocatori famosi del field italiano presenti in gara, non abbiamo invece volti noti per quanto riguarda gli stranieri. Ci diamo appuntamento come al solito per gli aggiornamenti della sala direttamente sul forum pokeritaliaweb.org come sempre seguiremo tutto l'evento. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!